Come vi sentite? Da paura, da paura. Ha setato. Rifareste tutto da capo? Sì, assolutamente sì. Ancora più falso vero. Sì, ancora più falso vero con tutte quelle storie che ci ha raccontato. Ci sono mille altre trame da raccontare. Abbiamo già qualche film in progetto. Sì, magari veniamo a girare un lungo. Dedicate la vittoria a chi volete. Vale anche la nonna adesso. No, appunto, ai nonni. Dai, ai nonni. Sì, i nonni in generale. I nonni, come abbiamo detto prima, il gruppo dei protagonisti del film, che sono stati validi, si sono impasticcati letteralmente per resistere alle fatiche del set. Il giorno dopo erano tutti zoppi, acciaccati. Uno va a paura che non c'è la faccia essere, però... E invece il giorno dopo è tornato più felice di prima e quindi a loro. Fate un'ultima cosa da Super Bugiardi. Aiuto, aiuto, aiuto! Ho mangiato tanto i schigerni, ragazzi.